Un ponte vecchio dorato unisce idealmente via Maggio e via Tornabuoni. È l'evento organizzato dal Centro per la Moda Italiana in collaborazione con la Camera di Commercio e il Comitato Oltrarno Promuove 2.0 per accogliere gli ospiti internazionali di Pitti Uomo, il Salone della Moda, da domani al 14 giugno alla Fortezza da Basso. Quest'anno Pitti Immagine compie 30 anni ed è anche per celebrare questo anniversario che la città è stata particolarmente vestita a festa. La via del lusso, Tornabuoni e via Maggio, cuore pulsante dell'Oltrarno, sede delle maestranze artigiane e dell'antiquariato di alto livello, sono state addobbate con stendardi, bandiere e festoni ispirati all'arte del ricevimento rinascimentale nel cinquocentesimo anniversario di Cosimo I e Caterina de' Medici. Per esaltare la tradizione orafa fiorentina, il ponte è stato ricoperto da un tappeto d'oro sul quale si sviluppa lo spettacolo scenografico di Human Show. Alle 22.30 l'evento forse più spettacolare. Lungo il tratto fluviale da Ponte Santa Trinita a Ponte alla Carraia, Acqua e Fuoco saranno protagonisti di un evento fatto di effetti speciali, giochi pirotecnici e zampilli d'acqua, con la regia musicale a cura del DJ fiorentino Remo Giugni. In attesa di scoprire in fortezza le collezioni Primavera-Estate 2020 della moda maschile, per la prima volta l'Istituto Marangoni ha presentato nel pomeriggio in Via Tornabuoni, dove ha la sua sede da tre anni, Unexpected, la sfilata dei suoi dieci migliori allievi.